come lo faccio io ma è una raga è un arabo questo però io quello che avevo ciclina da prima tenevano numero una potesse lettere strutture alla sala amico mi spara mi spara mi spara 62 di adshot aspetta che li vado in bocca aveva le fattili suca 2 kill mi sono allenato un po con un po mi spara uno mi spara uno non so da dove fatelo il bar adesso faccio paura agli uccelli che volano che schifo cosa o ma perché no no perché ma perché litighi con i muri che ti hanno fatto poveri ragazzi non mi apre la cesta la linea dove la cesta qua ma non l'avete solo tu solo ma che i droghe ha assunto in questi ma noi sono davanti a me e quelli che non lo devono dire che non lo vedo la vedo porca oddio quale super facenti hai assunto no vabbè è baggata via via c'è baggata quello sesto ma come tutto normale sì ma io lo vede io lo vedevo che cazzo ma ma no ma bocce è baggata quel vabbè quella cesta è maledetta no 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 se la registrazione si crede altro che maleficent malefici est che sono tra terra più apprucisi ok ok c'è anche un altro bagno dietro l'acqua dietro di voi in fondo lo senso vedo eccolo l'acqua lo sento aspetta che ma ecco lo aspetta zitti ma non è sceso non è stato di morte e che stanno sparando scusate dietro da dietro c'è un altro bagno che fa spuntare di no 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 ma ci facciamo così le strade verrà c'è la sì c'è la safe ho capito aspettiamo che loro se ne vado a fare la cazzo hai colpi dalla r lo no 92 però aspetta un attimo ti dico dopo o non è quello che non è la spazio aspetta aspetta ma non è la spazio mamma mia raga la verità avete visto ora non è importante un barretto non voglio niente voglio un bar titolino con quello che pensiamo ti do il mio a questo modo sei per sei fa la serata porti un po ma portami il compagno non abbiamo la taschettina porco disco è scaduta l'anno per il pieti medica 3 via la pistola dai no fermo 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 dico ah bevaccio grazie